buongiorno bella gente bentornate sul mio canale io sono male e oggi vi porto con me al Lidl che mi piace ogni volta che vengo condividere con voi le novità che ci sono gli articoli interessanti mi raccomando se vi piace questo video se vi piacciono i miei video e se volete dei video un po' particolare basta iscrivervi iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la nuovità e soprattutto seguitemi su instagram e facebook che trovate sempre delle cosette interessanti come vedete ci sono tantissimi articoli per la cucina a disegno questi pastiglini da forno poteri da forno cristallo sono veramente molto interessanti 5 euro mi vale proprio la pena comunque ci sono tantissimi articoli per i bambini per la scuola giochi quaderni ci sono tantissimi perché ovviamente siamo a settembre e ovviamente ci devono essere c'è un frigo che fa il congelatore che fa il ghiaccio che era molto carino e tantissima roba per i bambini tra l'altro questa scarpetta me la prenderei anche per me è molto carina mi piacevano queste lavagne adesive che ci sono sia nere che ricchi verdi per 4 euro e larghi 45 cm di lunghezza sono 2 metri 4 euro va più che bene quadernici questa lucina per per fare video su instagram su youtube a 9 euro 99 10 euro questa qua un caricatore per il telefono 13 euro e che trai? 14 euro trai? un 4 euro ma c'è ragazzi non ci si piaceva che c'è ragazzi Sono più grande una, 5 euro. Mi è piaciuta tantissimo questa cesta per i panni sporti, infatti non l'ho comprata, con 6 euro, è veramente molto carina e la mia finalmente l'ho buttata via perché era veramente inguardabile, era di tela però non si può lavare, l'ho lavata nella vasca ma non va via la macchina, invece questa qua si può lavare anche la lavatrice. Alla prossima Come notate mi piace tantissimo questo articolo Perché sto pensando di usarlo in bagno, io ho un lavandino molto piccolo e appoggiando il sapone, mi occupa tanto lo spazio, quindi questo qua prenderlo e attaccarlo proprio al specchio perché ho un specchio molto grande, così lo attacco allo specchio, appoggio il sapone, appoggio il gel per il viso, tutto questo può essere un'idea, vi farò vedere se la comprerò. E' verità che mi piace ogni tanto venire a fare un diretto a Lidl perché ci sono sempre degli articoli diversi, sempre delle novità, sempre delle offerte, anche nella zona sconti ci sono sempre degli articoli interessanti E quindi a me piace proprio venire a usare anche tante volte non è l'intenzione quello che fa la spesa ma più che altro puoi usare e sapere cosa c'è e non c'è. Oppure quando guardo il catalogo che porto con me a casa se c'è qualcosa che mi interessa torno sempre a vedere se mi vale la pena o meno Se avete visione della spugnetta o rugi vi consiglio di andare a prenderla a Lidl perché costa 2 euro, è veramente molto buona, io l'avevo già Comprata, appena si secca me la copro un'altra volta. Comunque ci sono dei sconti sui smalti e su alcuni articoli sempre del Lidl sulla cosmetica E comunque la linea cosmetica creme e così via del Lidl è molto valida C'è il sconto della crema facciale e delle ampolle di vitamine E comunque ho scoperto che c'è l'olio di aloe vera che costa veramente poco, 1,55 euro e ne vale proprio la pena di comprare Invece ci sono questi balsami maschere per i capelli ricci, i capelli danneggiati Può essere con 1,95 euro e vale proprio la pena comprarli La gente se vi piacciono i miei video e se vi è sui miei miei canali mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina Alla prossima e buon mercoledì a tutti